Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un avatar creato con una descrizione. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un altro avatar creato con una descrizione. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un'altra immagine presa da Pexels. Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo con lo strumento online che si chiama Aiken che è gratuito fino a un minuto di realizzazioni al mese come creare una foto parlante partendo da una nostra immagine o anche un'immagine di altre persone. Oppure partendo da una descrizione. Si può creare una immagine o un avatar con una descrizione per poi farlo parlare inserendo ovviamente il testo del discorso. Dunque per registrarsi a Aiken io vi metterò il link nelle informazioni sotto il video. In quel link cliccate dopo averlo aperto, aprirete questa pagina, andate qua in basso su sign in, ci cliccate sopra, verrà aperto questo modulo, inserite una email, una vostra email. Poi andate su send code, vi sarà inviato un codice alla email che avete digitato, incollerete questo codice in questo qua in verification code, poi andate su next step e potete accedere ovviamente inserendo il vostro indirizzo email e la vostra password. Io questo l'ho già fatto, quindi da sign in in basso si vedrà account dopo che vi sarete registrati. A questo punto si va sulla home per creare una foto parlante o un avatar parlante a partire da una descrizione. Si può andare qui su generate talking photo creandola appunto con la descrizione oppure upload talking photo, cioè caricandola. Iniziamo all'inizio con la descrizione, si va su generate talking photo e qui si inserisce una descrizione. Come vedete qui ci sono esempi di descrizioni, lo stile Pixar, The Donna, occhiali da sole, occhi blu eccetera eccetera. Questi sono esempi, chiaramente uno qua scrive la descrizione che è meglio se è in inglese, in italiano non ho provato se funziona. Inseriamo una descrizione. Ecco qua, bell'uomo 40 anni, capelli marroni, barba nera, occhi verdi, con camicia bianca, cravatta rossa e giacca blu. Si va su generate e si attende appunto la creazione di questo avatar, che sarà una foto o una immagine di tipo più artistico, più stilizzato. Si va su generate, vedete il processo potrebbe durare dai 15 a 30 secondi, grazie per la vostra pazienza. Questa è la descrizione, chiaramente uno può metterci la descrizione che crede. Ecco qua tutte le opzioni che vengono mostrate, uno ne scelge una, oppure si può salvarne una, oppure si può andare su refresh, si va su save, si chiude. Ecco qua, sono stati aggiunti qua, tutti e quattro. Naturalmente io potevo selezionare ne solo una e poi deselezionare gli altri, ma qui sono stati aggiunti tutti e quattro. Quindi adesso io posso utilizzare uno di questi quattro avatar per creare un'immagine parlante. Scegliamo questo. Ci sono due opzioni. Vado qua sul più. Posso creare un landscape o un portrait, cioè un'immagine orizzontale oppure un'immagine verticale. Scegliamo un landscape. Eccolo qua. A questo punto io incollo qua quello che deve dire, questa immagine che ho creato. Per esempio questo testo. Nel momento in cui io vado su play qua, capirà che è una lingua italiana. Però non è femminile, ma cerco sopra, quindi scelgo una maschile. La seleziono. E adesso ascolto la descrizione. Ecco fatto. Chiaramente uno può aggiungerci anche altre righe. Basta andare qui, andare su invio e aggiungere un'altra riga. Si può impostare qua anche la velocità della pronuncia e anche l'intonazione della voce, diminuendola, quindi rendendola più grave oppure aumentandola, rendendola più acuta. E dopo che abbiamo creato questo avatar parlante, si può andare su submit qui per creare appunto l'avatar parlante. Chiaramente mi verranno sottrati dei crediti, vado su submit, saranno 12 secondi soltanto, sarò su submit e ci sarà la creazione di questo video. E se sono stati completati 13-13% della creazione del video, bisognerà attendere. Io naturalmente taglierò questa parte per non allungare il video in maniera che non serve. Il video è stato creato, posso naturalmente chiamare il nome, lo chiamo avatar parlante e poi posso visualizzarlo cliccando sopra al play qua. Buongiorno, benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un avatar creato con una descrizione. A questo punto io lo posso anche scaricare, posso tornare al video. Per scaricarlo vado qua su questo pulsante e verrà scaricato. Naturalmente verrà raggiunto lo watermark, ma come sapete si può anche eliminare. Lo apro. Buongiorno, benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un avatar creato con una descrizione. Naturalmente proviamo adesso l'altra opzione, torno sullo home. E quindi adesso genero una foto parlante ma a partire da un'immagine. Clicco qua su Upload e tocco in foto e chiaramente devo selezionare una foto parlante. Seleziono questa, vado su Apri e questa immagine è stata aggiunta qua come vedete. Quindi vado ancora qui sul più e creo sempre comunque un landscape oppure posso trovare a creare anche un portrait. Prendiamo un landscape, ecco fatto. Questo è landscape e qui adesso chiaramente incollo un testo in italiano. Ecco il testo che ho incollato. Anche in questo caso naturalmente si può migliorare la velocità e l'intonazione. Se io clicco sul play verrà chiaramente scelta una voce italiana. Gabriella, come avete visto ci sono una voce maschile. Buongiorno, benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono una immagine presa da Pexels. A questo punto io posso fare come prima e scaricare il video. Vado su Summit qui in alto. Ci clicco sopra e chiaramente in questo caso mi verranno sottratti 11 secondi, quindi 11 crediti. Vado su Submit e anche in questo caso bisognerà aspettare la fine dell'elaborazione. Io metterò in pausa il video. Ecco, è terminato. Naturalmente posso cambiare il nome. Qui vado sulla matisa e metto foto parlante. E a questo punto posso scaricarla. Chiaramente la posso anche riprodurre andando qua, ma posso anche scaricarla andando qui. E la scarico. Dopo averla scaricata la posso anche aprire. Buongiorno, benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Come avete visto il risultato è ottimo. Chiaramente bisogna scegliere sempre o immagini con le labbra chiuse perché chiaramente vengono meglio. E adesso facciamo un'ultima cosa. Facciamo, creiamo con lo stesso sistema due avatar di tipo portrait. Iniziamo con questo. Andiamo invece qui sul più, invece che nel landscape, andiamo sul portrait. Chiaramente uso gli stessi avatar che ho creato prima, ma uno ne può creare anche altro. Altri, se va sul portrait. Qui, a dire la verità non viene tanto bene. Quindi torniamo indietro. Ecco, questo è l'unico che viene bene. Di tipo portrait. Qui digitiamo o incolliamo una descrizione. Di tipo portrait, chiaramente bisogna che sia centrato il volto e rivolto verso in avanti, chiaramente con le labbra sempre socchiuse. Si va sul play per fargli capire che si tratta di una lingua, della lingua italiana. C'è Gabriella, ma ci si clicca sopra e si sceglie una maschile, si va su select. E adesso si sentirà l'anteprima. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione. Submit e chiaramente 12 crediti ancora. Comunque sono 60 crediti all'inizio. Uno può anche aumentarli o anche sottoscrivere un abbonamento. Va su Submit e adesso ci sarà la creazione di questo avatar di tipo portrait. Ovviamente metto in pausa, lo riprendo dopo. Ecco, è terminato. Naturalmente io lo posso scaricare andando qua. Gli ho messo il nome avatar parlanti 2 e lo posso anche rispondurli direttamente da qua cliccando sul play. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. E adesso per terminare vediamo come creare un avatar parlante partendo da una foto di tipo portrait. Ok, si fa Upload Topping Photo. Seleziona questa immagine, si va su Apri. L'immagine è troppo larga. La massima risoluzione è di 4096x4096. Quindi adesso io la metto in pausa del video e la ridimensiono. L'ho un po' ritagliata con Gimp. Va su Upload Topping Photo. Ecco qua, adesso la apro. E verrà aggiunta naturalmente a queste immagini già presenti. Eccola qua. Vado stavolta sul più e scelgo Portrait per appunto una foto parlante in stile verticale. Eccola qua. Anche in questo caso inserisco un testo. Incollo questo testo. Vado sul play per poi far capire che è italiano. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti. Lascio la voce di Gabriella senza passare a una voce maschile. Chiaramente posso aumentare la velocità o diminuire la velocità di riproduzione. Posso magari aumentarla leggermente. Come posso magari rendere un po' meno, ecco passiamo, di meno 10% di pitche. E fare una tonalità più grave. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per... Francamente mi sembra addirittura diventata maschile. Lasciamo qua quello a zero, pitche a zero. Se lo buttassi più 10% verrebbe una bambina quasi. Buongiorno. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar. Ecco, è meglio lasciarlo a zero. A questo punto vado su submit come prima. Vado su load and submit direttamente. 11 crediti. Vado ancora su submit. E anche in questo caso attendo la fine del processo di creazione del video. Anche questo processo è terminato. Vado qui sull'icona della matita e metto foto parlante 2. La posso riprodurre andando qua sul play. Però la posso scaricare andando qua sull'icona del download. Dopo averla scaricata la posso anche riprodurre direttamente per il WLC. Benvenuti nello strumento per la creazione di avatar parlanti partendo da una descrizione o da una immagine. Io sono un'altra immagine presa da Pexels. E avete visto poi questi video li avrete visti all'inizio del tutorial. Alla prossima volta.